Un gesto odioso da condannare, le staccionate di Velte, immondizia abbandonata un po' ovunque, persino una gallina morta lasciata sulla griglia di uno dei barbecue. Era stato trovato così il parco dell'amicizia a Tezze sul Brenta, preso di mira dai vandali. Adesso è tutto ripulito e ricostruito, se ne sono occupati gli alpini di Tezze, incaricati della manutenzione dell'area verde. Fa male perché noi ci mettiamo l'anima per questo parco, perché è stato costruito dai nostri vecchi alpini, dalle comunità vecchie. Adesso siamo noi qua che lo gestiamo. Il volontariato nostro è lavoro e subito dopo qua il parco. Il parco è stato sistemato ma rimane l'amarezza per un atto così deprecabile. Rimane purtroppo questa amarezza che colpisce il cuore di tutti noi, soprattutto di quelli che ci tengono molto, di quelli che fanno manutenzione al parco, quindi non solo gli alpini che comunque sono sempre presenti, ma anche tutte le altre associazioni che utilizzano il parco. Amarezza perché probabilmente vediamo una comunità in forte degrado culturale che non riesce a ritrovare i valori di un tempo. E Tezze sul Brenta è stato teatro anche di un altro atto vandalico, con la decapitazione della statua di una madonnina a Campagnari. Il disappunto della cittadinanza e dell'amministrazione comunale è tanto. Io non parlerei di emergenza, insomma questi fatti ci sono, sono sempre stati, sono fatti isolati che non dovrebbero esserci, ma che sono commessi da persone che pensano che il patrimonio pubblico sia patrimonio di nessuno, invece è patrimonio di tutti e le spese poi ricadono su tutti quanti. Io ringrazio gli alpini che hanno sistemato in brevissimo tempo tutti quanti i danni che sono stati fatti in questo bellissimo luogo. E intanto non si ferma la caccia ai vandali con le indagini che proseguono.